10 9 7 6 5 4 3 2 1 vai 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 stendi 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 tira ancora la seconda tirala 100 dopo giallo tornate sinistro dopo giallo tornate sinistro seconda ora dentro via dentro pulito dai via fino al rail stendi rail destra 3 tienisci la terza rail destra 3 e destra 3 al rosso stai largo al rosso stai largo così dai giù giù rosso stai largo 100 stai largo tornate destro chiude tornate destro chiude chiude quasi a fine dai eh su eh se calo la prima dentro bravo tornate destro chiude 6 sinistra 3 lunga lunga 3 lunga lunga per 3 lunga lunga per destra e subito tornate sinistro subito tornate sinistro seconda dentro via fuori apri tieni giù sinistra 3 lunga destra 4 lunga lunga diventa metà muretto 4 lunga lunga diventa metà muretto 3 apri 3 apri via apri 50 muro a sinistra 3 al rosso chiude 2 rosso chiude 2 seconda dai chiudi la sul rosso 50 via 50 stendi la seconda e destra 3 chiude lunga chiude lunga chiudila ora chiudila lunga dai lunga eh si tiene questa in seconda e si fa montare sul 50 in sinistra 3 in sinistra 3 in destra 3 alla stradina chiude dai sinistra 3 tienila in destra 3 ora la stradina chiudila stradina chiudila bravo 70 sinistra 4 lunga lunga stai largo dai guidi eh dai guidino sinistra 4 lunga lunga stai largo 4 lunga stai largo attento attento dosso dai stai lungo lungo su sinistra 4 lunga piucia il dosso 70 si salta stai destro per in destra 4 lunga stai destro sul salto in sinistra 4 lunga subito sul ponte subito destra 2 apri e non tagliare apri e non tagliare dai seconda su spalanchiamo apri e vai subito sinistra 4 lunga sinistra 4 lunga sinistra 4 stai largo sale e sinistra 4 piena 4 piena dai 4 piena giù di quarta stendi la quinta ora boccacela 150 tutti pieni eh fino allo specchio attento attento destra 3 specchio destra 3 ora 3 ora vai dentro bravo così sinistra 4 lunga sinistra 4 lunga sconnessa stai largo in array destra 4 dai eh in destra 4 array destra 4 in sinistra e destra sinistra e destra eh sinistra e destra per sinistra 3 due tempi stai largo scende dai giù per sinistra destra dai sinistra destra per sinistra fino a rovescio dai a rovescio destra 3 lunga zasso ricorda chiude riscorda zasso chiude e per subito sinistra 3 scende non tagliare, subito sinistra 3 non scende, non tagliare 150, 150 giù per Rai destra 3 non tagliare, Rai destra 3 non tagliare, non tagliare eh bravo, su, su bravo così, falla andare su falla andare, falla montare e sinistra 3 gira chiude, gira chiude era a metà, dai, dai girala chiudila così, da entra dentro, vai per destra 2 sconnessa, occhio in uscita 2 sconnessa, occhio in uscita 2 occhio in uscita dentro, bravo dai guidino, per sinistra 3 tieni, fino a Papi, sinistra 3 tieni, fino a Papi e vai 100 Papi vai su 100 e Rai, metà Rai destra 3 ora 3 ora per destra dai su, destra per sinistra 3 tieni, 3 tieni 3 tieni, è bene dai sul dosso, su 100 scende si tiene in corda, su destra 4 lunga lunga non tagliare, tiene in corda, su destra 4 lunga lunga non tagliare, dai non la tagliare eh, bravo guidi giù, per sinistra 4 dai guido, su, in destra dai guidino, forza in destra non tagliare, veloce quinta, su, 100 100 sul dosso, 200, quinta 200 eh, dai fino a Rai non me la mollare proprio ora eh per Rai la sinistra 3 lunga lunga 3 lunga lunga Rai imposta la benna e falla salire eh non la fa riuscivolare tanto bravo stai sinistro sul dosso su destra che scende sul dosso eh destra scende giù veloce su, su, sinistra 4 lunga dai giù sinistra 4 lunga 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 per fino al palo destra 3 chiude 3 chiudi la ora 3 chiudi la chiudi la metà ora dai dentro subito sinistra 3 70 a vista dai accendo sinistro destro si fanno pieni accendo sinistro e destro eh per destra 3 lunga lunga destra sinistro veloce per destra 3 lunga lunga occhio in uscita occhio in uscita subito sinistra 2 chiude in uscita e non tagliare occhio in uscita eh su sinistra 2 chiude e non tagliare occhio in uscita eh dai su 100 sconnessi giù 100 sconnessi stendi la terza per destra e per sinistra veloce fino al traliccio dai per destra 2 chiude destra 2 chiude 2 chiude ora chiudi eh destra 2 ti è la pena in corda eh non la mollare eh sinistra 3 due tempi alla seconda chiude diventa sinistra 2 alla seconda eh chiudila e lasciala andare diventa sinistra 2 apri ora eh dai fa la scevolare così ancora fa la scevolare bravo dentro subito destra per sconnessa per sinistra sconnessa ancora 50 alberone tornate destro l'alberone tornate destro dai 50 50 per sinistra sinistra dai eh su 50 dopo dai su sinistra sinistra lunga dai questa 50 rail destra 2 e subito sinistra 2 chiude subito sinistra 2 chiude dai su veloce per sinistra sfiora rail a sinistra per 200 sconnessi dai sui 200 sconnessi fino attento attento occhio a rail tornate destro dai fino a rail sconnessi eh bravo dai dai non hai paura tornate destro così dai subito falla scivolare sul tornante sinistro dai falla scivolare sul tornante sinistro così dai guido dai per destra 3 dai 30 destra 4 lunga 30 destra 4 lunga 50 stacca rail sinistra 2 scivola chiude 2 sinistra sinistra 2 scivola chiude falla scivolare chiudi la è a metà bravo bravo guido non la mollare così va chiusa così per destra per 50 destra 5 lunga piena 5 lunga piena tieni la corda sullo sconnesso tieni la corda sullo sconnesso bravo 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 per sinistra non tagliare tienila ancora sullo sconnesso la corda 100 e sinistra rail non tagliare sinistra non tagliare tieni la corda sul rail dai tieni la corda per destra ancora tieni corda per sinistra ancora dai falla volare giù 100 su fine prova tieni giù quinta stendi stendi stop bravo bravo guidino bravo 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 Grazie.